Presidente Malagò, un'opera del genere in Abruzzo del censimento degli impianti sportivi mancava da 20 anni, tanti? No, troppi. Devo dire che altre regioni condividono questo brutto e triste record, però adesso finalmente abbiamo aggredito l'argomento grazie anche al bando del Fondo Sport e Periferie, tutto il territorio nazionale nel giro di un anno. Molte regioni hanno già tagliato questo traguardo, completeranno questo strumento che apparentemente sembra banale, ma è la base di tutto, è indispensabile. Oggi, ci sono molte regioni, vi garantisco che c'è quasi un'eccessiva proliferazione di impiantistica sportiva, e magari è stata fatta senza troppo equilibrio rispetto a quelle che sono le esigenze, soprattutto di alcune discipline sportive, delle realtà locali, mentre in altre indubbiamente c'è una carenza. Però direi che oggi, nella massima parte di tutto il territorio, l'Abruzzo su questo, c'è più da capire cosa veramente serve e poi, soprattutto, che credo sia oggetto del dibattito, mettere in condizioni persone capaci di gestire l'attuale. Hai bastato ragione, poi io non so dire se 30 milioni sono tanti o pochi, possono essere sufficienti 29 come non bastare 31. Indubbmente la realtà qui la conosciamo, il mondo del CONI come sport e periferie sicuramente può dare un'accelerazione in quelle situazioni di urgenza assoluta, di zone terremotate. È chiaro che il resto devono fare agli antilocali.